all'intervento di di marco gervasi ciao marco buonasera a tutti quanti marco ho letto il tuo libro is commerce nel lontano 2016 avevo appena lanciato il mio business transazionale e diciamo che per fortuna mi sei tornato in mente durante l'organizzazione di questo webinar perché cercavo appunto un ospite che potesse meglio descrivere come la cina ha affrontato prima di noi l'emergenza assolutamente non conoscesse marco marco è uno dei principali esperti nel settore e-commerce in cina è stato il fondatore manager director di red synergy shanghai che è una società che fornisce assistenza legale e strategica nel mercato cinese ha oltre 15 anni di esperienza in cina dove assiste società industriali fondi di venture capital e internet company nelle loro strategie di investimento marco grazie per aver accettato questo invito e lascio a te la parola grazie a voi grazie a te marianna ci siamo sentiti sabato per organizzare l'intervento di oggi e abbiamo fatto tutto velocemente ma in realtà i dati erano già abbastanza chiari diciamo che da quando ho scritto il mio libro ad adesso quello che è cambiato che mentre prima la cina era e di comer cinese era una storia un po esotica di numeri che crescevano di quello che che stavano facendo l'altra parte del mondo adesso è diventato un veramente un punto di riferimento anche per il mercato americano vi farò vedere dei numeri e vi farò vedere alcune idee che sono veramente avveniristiche sicuramente voglio toccare quattro punti molto velocemente la parte di innovazione i picchi di domanda l'export e la parte di resilienza in particolare per quanto riguarda l'innovazione il filo conduttore di tutto quello che è successo nelle commerce cinese da quando ha iniziato a crescere ad oggi qui diciamo gli ultimi dieci anni è il classico detto di silicon valley meglio chiedere scusa dopo che chiedere il permesso prima ovvero in un periodo come questo in cui ad esempio in italia ce li troviamo in situazioni in cui abbiamo problemi di consegne per mancanza di personale specializzato nel dell'impacchettare la nostra spesa nel consegnarla in cia si sono sempre inventati dei sistemi prima di controllare che fossero poi anche da certi punti di vista legali per poter fare le cose che alla fine nel tempo sono diventati consolidati e hanno funzionato un po quello che ha fatto uber ad esempio uber ha sempre è sempre stata sul filo della legalità e illegalità per quanto riguardava i propri autisti però alla fine hanno avuto ragione perché hanno creato qualcosa di nuovo la non so se posso cambiare io se volete cambiarmi voi le slide perfetto la cambiate voi vi faccio vedere ad esempio un dato molto importante in dieci anni il e commerce cinese diciamo la principale piattaforma di commerce cinese che alibaba che ha portato alla diffusione di massa dell'e commerce è passata da una giornata come l'undici novembre che il china single day diventato oramai l'emblema delle 20 e commerce del mondo quando è stato lanciato nel 2009 fatturavano in 24 ore 7.8 milioni di dollari l'anno scorso l'11 novembre hanno fatturato 38 miliardi di dollari quindi siamo passati da 7.8 milioni a 38 miliardi questo che cosa vuol dire vuol dire che le complessità legate a vendite da set da 8 milioni di dollari a quelle legate da 20 da 40 miliardi di dollari sono cambiate nel giro di dieci anni quindi i cinesi sono ritrovati ad affrontare problemi che stiamo portando noi adesso e a dover capire come gestirli e la cina è realmente per noi una macchina del tempo guardare come si stanno comportando i modelli che stanno tirando fuori adesso è molto importante per capire qual è la direzione giusta per da seguire per capire esattamente cosa fare perché se sono testati su 800 750 milioni di consumatori vuol dire che da qualche parte funzionano avendo pochi a dieci minuti faccio vedere solo alcune cose le slide poi continuerete a guardarle voi potete scaricare dei slide successivo per favore posso cambiarla io vediamo sì arriviamo scusate un pochino lento quella dopo no non posso cambiarla io mi sa se mi aiutate esatto allora guardiamo subito cosa successo negli ultimi mesi in cina le vente nel settore retail sono calate del 20 per cento mentre a dicembre era in un aumento dell'8 per cento rispetto all'anno precedente quindi fino a prima dello scopo del virus le vendite cinesi continuano ad aumentare eventi online pardon l'eventi retail gli investimenti del settore residenziale che è praticamente uno dei motori trainanti dell'economia cinese sono crollati del 16 per cento e l'output industriale per la prima volta dopo tantissimo tempo è sceso del 13 e mezzo per cento quindi se guardiamo solo questi dati è veramente un periodo disastroso per la cina però se guardiamo la parte di e-commerce rendiamo conto che le vente sono aumentate in maniera esponenziale proprio come abbiamo visto anche prima nella nella tua slide la cosa incredibile che i cinesi in pochissimo tempo e questa è la cosa ad esempio giulia diceva non siamo ancora pronti a pianificare le vacanze perché con la testa non siamo siamo ancora nella crisi quello che è successo dai cinesi che sono passati nel giro di quattro settimane tre settimane da acquistare tutto ciò che aveva che fare con la salute e quindi le medicine la farmacia a iniziare ad acquistare tutto ciò che è legato a sport e fitness ad esempio le palestre sono state riaperte i ristoranti i negozi sono stati riaperti in cina adesso hanno inventato questa nuova app che è un semaforo che in base ai dati che tu immetti stabilisce se tu sei giallo rosso verde questa app viene richiesta l'entrata di ogni posto pubblico quindi con questa app chi il gestore del grande magazzino della palestra del ristorante decide se farti entrare sedere consumare o se respingerti questa è una sorta di 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 controllo di massa di di del di quanto siamo sani o meno slide successiva ecco la cosa importante questa in in italia e in spagna abbiamo la penetrazione di commerce più bassa al mondo o almeno dei paesi sviluppati cioè circa il 5% in francia sono un po più alti in cina hanno il 36% quindi il la cosa incredibile è che questo dato continua ad aumentare e persino negli stati uniti che è un paese molto molto evoluto il la penetrazione il 19 per cento slide successiva ecco una cosa che a me ha molto colpito perché oramai sono abituato in cina è che andando sul sito ad esempio di s lunga che è un sito molto bersagliato di altri siti non so cortilia o altri siti di commerce io mi trovo una pagina che mi dice che stanno facendo di tutto per aiutarci e che fondamentalmente non ce la fanno star dietro al livello di richieste quando voi pensate che il 11 novembre del 2019 in 24 ore la cina ha processato 1.3 miliardi di ordini 1.3 miliardi di ordini ripeto quando io vedo quello che scrive a se lunga mi viene da ridere perché è vero che oggettivamente hanno dei problemi però è anche vero che i cinesi con 1.3 miliardi di ordini altro che problemi che hanno bene uno dei motivi per cui sono riusciti a risolverlo è che molto semplicemente moltissimi dei seller sulle piattaforme di alibaba usano dei chatbot fondamentalmente un sistema abbastanza poco costoso che permette di rispondere alle domande più importanti ora io stavo cercando sul sito di s lunga alcune informazioni contatta ci parla con noi è assolutamente non è possibile e questo mi ha molto meravigliato perché l'uso di chatbot in cina oramai è diffusissimo pagina successiva ecco queste sono le cose che sono successe negli ultimi due mesi e a me hanno fatto molta impressione perché di nuovo è meglio chiedere scusa dopo che il permesso prima allora innanzitutto 30.000 persone hanno aperto un loro negozio online solo nel mese di febbraio quindi chiunque avesse un negozio ristorante un bar un'attività e non aveva ancora una presenza online se l'è aperta immediatamente su alibaba o sulla piattaforma dell'ibaba iniziando a vendere ma la cosa incredibile è che mentre in italia le vente di gioielli e comunque di tutto ciò che noi utilizziamo per andare all'esterno sono calate in cina sono aumentate le vente di cosmetici allora uno si chiede ma com'è possibile che questi chiusi tutti quanti in casa hanno comprato più cosmetici molto semplice perché io sto a casa fatto sì che i cinesi passassero moltissimo del loro tempo online e quindi volessero apparire sani e non malati di fronte a tutti i loro amici e le persone con cui lavoravano e quindi hanno iniziato a comprare creme trucchi tinte e chi più ne ha più ne metta in modo da apparire il più sano possibile ma la cosa incredibile è che questo marchio di cosmetici che si chiama forest cabin che aveva 337 negozi si è ritrovato a chiuderne più della quasi la metà e il capo di forest cabin ha ordinato ai 1600 commessi di fare un corso sulla loro piattaforma per insegnargli a vendere i cosmetici facendo le dirette tipo le dirette facebook quindi questi 1600 commessi si sono messi a fare dirette giorno e notte di come si vendevano i cosmetici dell'azienda in quanto nei negozi non avevano più clienti da poter assistere slide successiva cosa è successo è successo che le vendite in 15 giorni sono aumentate il 45 per cento e le 20 online sono passate dal 25 al 90 per cento ma la cosa incredibile è che i ristoranti quindi quelli famosi stellati non stellati hanno iniziato a dire ai propri chef di fare i corsi online o di raccontare online come si fanno le ricette gli agenti immobiliari ha iniziato a far vedere le case online case che la gente siccome le persone passano quasi tutto il tempo online visto che non hanno non possono uscire è il momento migliore per bombardarli di cose che invece nella vita non farebbero normalmente quindi gli hanno fatto vedere le macchine di lusso gli appartamenti i ristoranti e gli eventuali sanremo della situazione cinesi e si sono inventati in pochissimo tempo un modo di vendere online quello che non si poteva vendere online ma la cosa incredibile è che la fashion week di shanghai che si inizia domani fino al 30 trasmetterà tutte le sue sfilate sulla piattaforma di alibaba è come dire che la fashion week di milano su farà una diretta facebook di tutte le sue sfilate per i 45 giorni ora slide successiva per cortesia quello che sta succedendo è questo allora innanzitutto la design week di milano è stata spostata il vinitaly è stato spostato il dunque la design week è stata spostata a giugno ed ha ancora da vedere se la faranno a giugno il geneva e il geneva motor show è stato cancellato la fiera del libro di londra è stata cancellata quello che sta succedendo è che e qui parlo agli export manager che non possono né viaggiare e profondamentalmente gli export manager secondo me è la categoria più depressa di insieme alle fabbriche in questo periodo bene quello che è successo è che stanno nascendo a parte i webinar se voi ci fate caso durante il periodo del salone di ginevra avendo cancellato il salone su youtube sono esplosi i video delle macchine che venivano normalmente presentate al salone di ginevra quindi il modo di fare un salone di ginevra virtuale è stato utilizzare la piattaforma youtube per presentare le auto più interessanti ma quello che sta succedendo che molte società tra cui le farmaceutiche adesso a ginevra c'è una fiera molto importante che si chiama vita food che la fiera di integratori alimentari più grossa del mondo hanno deciso di creare il loro stand virtuale quindi il cliente e il cliente potrebbe essere o il compratore o qualsiasi altra persona letteralmente in pigiama si connette quel giorno in cui dovrebbe essere aperto lo stand e con una persona 24 ore su 24 che si occupa del call center e del customer service fondamentalmente viene istruito su tutti i prodotti che sarebbero stati presentati a quella fiera questo è una cosa molto interessante perché se pensate a quello che potrebbe essere la milano fashion week su una piattaforma cinese oppure il vinitali su una piattaforma cinese visto che comunque sono tra i più grandi compratori sono idee che comunque io non ho ancora visto in giro e che se a un export manager fosse data la possibilità di poterlo fare in maniera virtuale ma poter continuarlo a fare sicuramente lo farebbe mi riallaccio velocemente a quanto detto prima qualche giorno fa le note che stanno soffrendo enormemente in questo periodo ma io parlavo l'altro giorno qualche giorno fa con un produttore di vino che mi ha detto che tannico gli ha fatto un ordine da 430 mila euro così d'amblè cosa che non si era mai vista e quindi è vero che da una parte ci sono società o situazioni che stanno soffrendo ma altra parte ci sono delle possibilità incredibili questo cosa vuol dire vuol dire che questa situazione di crisi che stiamo vivendo è sicuramente un campanello di allarme per farci capire che se prendiamo la strada di quello che hanno fatto i nostri amici cinesi tutti quanti alla fine ci possiamo guadagnare questo non vuol dire diminuire i problemi che ci sono o vedere il bicchiere mezzo pieno ma vuol dire che comunque c'è ancora tantissimo da fare e che vi assicuro che quello che sta succedendo a Shanghai cioè della fashion week messa sulle piattaforme di Alibaba vuol dire che nel momento in cui io vedo un vestito che sta sfilando sulla piattaforma in streaming e clicco sul vestito io me lo posso direttamente comprare all'istante cosa che prima non era possibile perché c'erano prima i buyer che dovevano comprare e poi mettono nei negozi e i negozi poi i clienti potevano comprare in questo momento hanno bypassato gli showroom hanno bypassato i buyer e hanno permesso ai brand che stanno sfilando in quel momento di vendere direttamente al pubblico questa non è fantascienza ma in realtà perché inizia da domani per cui quello che volevo dire è di iniziare a guardare la Cina come un punto di riferimento con Mariana stiamo pensando di fare un webinar solo su quali sono i modelli che la Cina ha implementato in questi ultimi due mesi fondamentalmente per scopiazzarceli un po' anche noi e capire cosa possiamo fare che sono i modelli che la Cina è un'occhiata che non si trova